Tina è seria, è la figlia perfetta, non mi ha mai dato un problema. Ma da un po' di tempo è cambiata, è nervosa, è irrequieta, è come se si fosse persa in qualche modo. E ora ho capito perché. Guarda che è stata dura tirarla su senza un padre. Ho sempre pensato prima o poi ne avrà bisogno un padre, no? Non mi hai mai parlato di tuo marito. Guarda che non mi stavo parlando con te. E non stavo parlando solo di lui. Se non hai avuto un padre prima o poi rischia di volerne uno, magari il primo che passa. Te per esempio. Io non credo che Tina sia cambiata per me. Se resti io non te lo posso impedire, tu ti devi ricordare solo una cosa. Quale? Che tu hai una grande responsabilità verso Tina. E quindi di nuovo verso di me. E tu... Tu non sei in grado di avere responsabilità. Tu sei uno che scappa dalla responsabilità. Io non sto scappando. Ma lo farai. Lo distruggerai tutto un'altra volta. Grazie. Grazie a tutti.